Oggi il settembre mi dai ok, io scarico tutte le note audio e butto su. Allora tesoro, in teoria io sono... In teoria. Starave di Simon Cracker. In teoria... In teoria dovrebbero essere quindici pagine con tutto quello che c'è dentro. Infatti in teoria siamo sempre... In teoria portami via. Non ho capito molto in teoria, cosa vuol dire? Cioè, ok, frase, bla bla bla, ma da cosa è ispirato? Cioè, in teoria amo. And try this good. And try this good. And here's a good. I'm a better. But we're not good. No, 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 no. No, no, no. Oh, no. And there are fatti e teoria,hui teoria anuzu. Ero il primo a da suon. Allora, né? E di pari. 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 Io la scuola la vivo un po' male, perché non ne voglio. Sì, studiare, però dopo a giocare, cioè giocare, tutto il giorno giocare. Sì, studiare, però dopo a giocare. Sì, studiare, però dopo a giocare. Sì, studiare, però dopo a giocare. Sì, studiare. Sì. Sì, studiare. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti